ciao a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale oggi vi mostro un modo per utilizzare il camino quando è spento cercato una soluzione che possa essere sia funzionale che anche carina da vedere in quanto quando il camino è spento comunque entra abbastanza aria fredda dalla canna del camino e soprattutto durante l'estate quando non si utilizza mi dà fastidio vedere questa specie di deposto che ho nel camino appunto inutilizzato quindi ho riutilizzato un pezzo di legno che avevo che era delle dimensioni precise del camino ovviamente se non le avete fatevelo ritagliare magari dal falegname e ho solamente inserito delle assi di legno nella parte che può andare nell'interno del camino in modo che questo pezzo di legno sia completamente ad incastro quando lo inserisco appunto nell'ingombro del camino stesso una volta fatto questo non potevo lasciarlo certo così perché è abbastanza bruttino anche perché è un legno di recupero ho cercato di realizzare qualcosa che sia sia vero da vedere che anche funzionale e quindi l'ho coperto con del semplice cartoncino nero e con la lavagna adesiva questo l'ho comprato dalla lidl ma penso che la potete trovare anche su amazon ho utilizzato prima come base un cartoncino nero ma vorrei diventerlo di qualsiasi colore voi volete perché essendoci appunto delle viti e che creano un dislivello sul legno stesso la pellicola adesiva delle lavagne non sarebbe attaccata efficacemente il cartoncino l'ho attaccato a legno semplicemente con della colla a caldo una volta che ho attaccato anche la pellicola adesiva sul cartoncino ho continuato poi con il decorare la parte che rimane sulla sinistra con un piccolo contenitore dove appunto andrò ad inserire i gessetti colorati e poi sopra mi sono divertita di inserire delle mollettine sul quale appunto potrò mettere dei posti su delle foto o anche delle decorazioni varie finito poi decorando con una maldita bianca e ho disegnato un filo quindi questo video finisce qui spero di questa idea vi sia piaciuta per utilizzare anche il cammino durante l'estate o magari semplicemente per diciamo ottimizzare il calore che avete l'inverno quando il cammino ovviamente non è acceso io vi saluto vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao